Bene ragazzi, allora in tanti mi avete chiesto come fare a prenotare il nuovo Metal Detector Simplex Lite, Simplex BT, Simplex Ultra della nuova serie New Generation e allora io ve lo spiego qui c'è il sito www.metaldetector24.com vedete, tra l'altro c'è chi siamo, blog, contatti e negli ultimi arrivi abbiamo proprio giunto da poco come è arrivata la bella notizia il Simplex Ultra, Simplex BT, Simplex Lite per vedere qualche foto potete cliccare in ogni tipo di prodotto c'è scritto una spiegazione, poi sarà aggiornata anche le foto saranno aggiornate per ordinarlo potete fare contattaci dove c'è clienti o direttamente l'email info.metaldetector24.com oppure il modulo richiedi informazioni e qui scrivete il nome Stefanone Morrasiani il telefono, potete mettere il telefono 0542 600 108 io metto il mio l'email, io metto la mia email info.bravodog.com che vuol dire bravocane.com e poi scrivete sono interessato al nuovo Simplex o il Lite Lite oppure il BT oppure l'Ultra scrivete quello che vi interessa e poi dice ciao quando arriva io vi ricontatto e vi mando il prezzo speciale per i nostri clienti affezionatissimi e sapete che vi faccio anche un'ottima manutenzione oltre che da Stefanone fate sempre un affarone perciò entrate nel sito metaldetector24.com andate nella sezione contatti potete potete compilare questo form e come mi arriva io vi do conferma che è arrivato e come sono pronti gli apparecchi vi informo vi faccio il prezzo buono e se il prezzo vi va bene l'importante è anche una ottima manutenzione il prezzo sarà sicuramente buono come ve lo dico in tutti i video e se ve lo volete ve lo spedisco ciao e si fa naturalmente iscrivimi a New Letter e invia messaggio ciao a tutti a tutti i video a tutti i video grazie a tutti i video